La situazione ha spostato i frati a Vicenza. I vini erano fantastici, tu li hai saggiati? Insomma, quando c'è da bere si beve. Sarebbe bello avere sempre il tempo di spiegare al cliente quanto lavoro c'è dietro a una bottiglia. Sicuramente un 10 su 10, bello, veramente. Voglio guidare il cliente nella sua scelta ottimale. Ciao mamma! Ciao mamma!